e non abbiamo ancora finito ci sono i consigli per domani dei segni d'aria allora andiamo a vedere subito cosa ci dicono i nostri arcangeli ho chiesto dei consigli per voi per ogni gruppo comunque di segni allora segni d'aria, gemelli, bilancia, acquario il consiglio che vi dà l'arcangelo Michele, carta dell'imperatore organizzazione logica, struttura e disciplina, leadership quindi cercate di organizzarvi comunque sia al meglio cercate di essere comunque sia disciplinati voi siete dei leadership, sentitevi e portatevi dietro le persone con voi insomma cercate di interagire comunque anche con gli altri poi abbiamo l'arcangelo Jeremiel il rinnovamento, rivedi e valuta dovete rivedere un po' di cose e valutarle e giudizio favorevole sui fatti quindi c'è un qualcosa di positivo sui fatti e tempo di andare in una nuova direzione dovete cambiare direzione su una determinata situazione e poi abbiamo il 3 d'aria profonda tristezza siete presi dalla tristezza prenditi il tempo che ti serve per guarire hai bisogno di perdonare te stesso e gli altri probabilmente questo rinnovamento è dovuto proprio in merito a una tristezza che vi assale prendetevi il tempo che volete in questa settimana per voi e cercate di valutare e rivalutare e vedere le vostre situazioni vi ringrazio, vi auguro una buona settimana e a domani vi ringrazio, vi ringrazio, vi ringrazio vi ringrazio, vi ringrazio, vi ringrazio